Ieri la manifestazione a fianco del Narodnidom dei cosiddetti Patriottici, oggi quella dei gruppi cosiddetti pacifisti in Piazza Oberdan. E' questo il luogo d'inizio della manifestazione che poi si è spostata verso Via Finzi dove sono state presentate diverse letture. L'incontro vuole essere un'occasione per ricordare i fatti storici di un'epoca burrascosa e per applaudire alla restituzione delle comunità slovene del Narodnidom. Oggi c'è un permudio per festeggiare il Narodnidom che passa di nuovo alla comunità slovena praticamente cento anni dopo quando fu da parte dei fascisti fu incendiato da parte dei fascisti. A poche ore ormai dall'atteso incontro del 13 luglio tra i presidenti Mattarelli e Pacolo e la foiba di Basovizza e il monumento dei fucilati del Tigre continuano questa serie di incontri tra le comunità cittadine che culminaranno lunedì con la firma di perfettura per la restituzione dell'ex hotel baron.